Ivana Trump non è stata solo la prima moglie dell'ex presidente Donald Trump ma ha avuto anche una intensa storia con Rossano Rubicondi. Ivana Trump, morta all'età di 73 anni, non è stata soltanto la prima moglie di Donald Trump, è stata, infatti, legata anche al modello italiano Rossano Rubicondi, con il quale aveva una differenza d'età di quasi un quarto di secolo. Nonostante il divario generazionale, la coppia è stata sempre molto complice e affiatata e ha vissuto una storia durata quasi due decenni. Ivana Trump, il matrimonio con Rossano Rubicondi, il nostro è sempre stato un amore vero. Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente americano Donald Trump, è morta a poco meno di un anno dalla prematura scomparsa di Rossano Rubicondi. Il modello italiano e l'ex compagna di Donald Trump hanno vissuto una intensa e travolgente storia d'amore durata anni. Anche dopo la fine del loro matrimonio, infatti, Rubicondi e Ivana Trump sono rimasti profondamente legati l'uno all'altra. Nel gennaio del 2018, quando il matrimonio tra i due si era ormai concluso, Rossano Rubicondi aveva raccontato, si è parlato tanto di un matrimonio di interesse, ma non è così. In questi anni io e Ivana abbiamo dimostrato che il nostro è un amore vero, nonostante tanti periodi di crisi. Il modello, inoltre, aveva rivelato, io e Ivana stiamo insieme da 19 anni, ho passato metà della mia vita con lei e senza di lei mi sento al 50%. Lei è il mio punto di riferimento. Nonostante i periodi di crisi siamo sempre rimasti molto vicini. Se oggi sono qui, è grazie a lei, mi ha aperto le porte del mondo, mettendo a mia disposizione la sua esperienza. Non l'ho mai tradita e non c'è mai stata una vera rottura, stiamo ancora insieme e voglio passare il resto della mia vita con lei. Morte del modello italiano e ricordo dell'ex moglie. A proposito della fine del matrimonio con Rossano Rubicondi, Ivana Trump aveva raccontato, Rossano deve lavorare e trascorre molto tempo in Italia mentre io mi divido tra New York, Miami e Centro Per. Siamo spesso lontani e questa cosa non funziona davvero, così abbiamo deciso di separarci. Ci siamo divertiti tanto insieme e restiamo buoni amici. Dopo la morte del modello avvenuta il 29 ottobre 2021, l'ex moglie di Donald Trump aveva dichiarato, sono stata molto fortunata per aver vissuto accanto a lui quasi 20 anni della mia vita. Come nella maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, abbiamo avuto anche noi la nostra parte di alti e bassi, ma siamo rimasti amici per tutto il tempo e ci siamo sempre protetti l'uno con l'altro, mi mancherà la sua amicizia, l'energia, le risate, la devozione nei miei confronti. Anche se amava troppo la vita per lasciarci così presto, so che il suo spirito vivrà sempre e ovunque. Riposa in pace.